L'Unione Europea offre una vasta gamma di finanziamenti per sostenere progetti in diversi settori come l'innovazione, l'ambiente, l'istruzione, i trasporti e molti altri. Queste risorse rappresentano un'opportunità cruciale per enti, organizzazioni e aziende che intendono realizzare progetti con un impatto positivo a livello locale, nazionale e internazionale. Ma per portare avanti con successo un progetto europeo è necessario avere competenze molto specifiche, che si aggiungono a quelle normalmente previste per il project management. Se ne parlerà il prossimo 22 febbraio nel secondo appuntamento di lezioni d'Europa. Verranno fornite ai partecipanti informazioni fondamentali su tipologie e linee di finanziamento europee sulle banche dati da consultare, arrivando ad esaminare i passaggi necessari per passare dall'idea alla stesura del progetto. Orario e modalità di partecipazione sono in descrizione.